20-21 arte giovane a confronto entriamo nella terza settimana e quindi terzo argomento dopo aver parlato con Pablo De di tatuaggi e dopo aver parlato con Alberto Pagliaro di fumetto entriamo questa terza settimana e l'argomento che tratteremo sarà la street art con le ragazze di Uovala Pop ragazze che si contraddistinguono per una grande esperienza e competenza in quelle che sono queste nuove forme di arte contemporanea 20-21 arte giovane a confronto terzo e ultimo appuntamento qui alla Villa Trossi Uberti di Livorno con le ragazze di Uovala Pop parleremo di street art questo pomeriggio potete raccontarci qualcosa di questo incontro di oggi? noi siamo il terzo appuntamento di questo catalogo meraviglioso che ha ideato e creato Giulia con le sue doti grafiche siamo lo sticker di Gio Fester mi sono messa la maglietta apposta per appunto far vedere il nostro logo il nostro simbolo che funziona da anni e siamo qui per proporre una piccola mostra una curva sulla street art che pensiamo possa richiamare più i giovani quindi immagini prese dai cartoni il tutto parte con invece Jeb vero Libra? ci puoi raccontare tu di Jeb? sì questo è uno Zeb particolare perché è un grande Zeb che tra l'altro è in mostra alla banca di Castagnetto Carducci fatto da quella lì con gli occhiali scuri e il rossetto Giulia Bernini in arte oblo e la sua specialità è partita come quella di fare ritratti a personaggi famosi di questo e non solo Livornesi e poi vabbè è diventata tutt'altro però in una mostra che ha fatto con Uova La Pop due anni fa o l'an... sì due anni fa ha fatto tutti questi tondi e abbiamo sparso questi tondi in strada e erano tutti personaggi famosi a Livorno in questo caso Zeb è raffigurato un po' come Diabolic Zeb è stato il primo street artist Livornese che usava la parola sui muri la sua frase più celebre è vent'anni che mi sembra di parlare a comuri però è stato anche un pittore che si era dedicato alla pop art quindi rifaceva su grandi tele personaggi pop quindi in questo caso dei fumetti e quindi qui abbiamo Zeb Diabolic poi se posso continuare abbiamo fatto una scelta di alcuni artisti che secondo noi sono contemporaneamente avanguardisti sono degli street artist che con i quali collaboriamo ma che abbiamo voglia anche di lanciare e quindi troverete anche Abel Bael sembra quasi un ricamatore dei muri usa delle simbologie un'arte molto astratta molto grafica addirittura lui lavora dalle Vans quindi proprio dalle scarpe Vans fino ai muri poi abbiamo portato anche gli Urban Solid che riconoscerete con questa televisione una scultura urbana dalla quale esce un viso che tiene in mano un telecomando ecco poi entreremo nel merito magari della simbologia di questi artisti però sono tra i pochissimi street artist che si occupano di scultura quindi è molto particolare anche come approccio poi avremo abbiamo portato anche Merione Merione però Merione forse lo vuole raccontare Viola perché è innamorata di Merione io volevo parlare del Banksy Livornese che comunque abbiamo portato in mostra che è Mart che è stato uno dei primi appunto a intervenire con la stencil art quindi questa tecnica che Banksy ha diffuso e insegnato a tutto il mondo e che lui ci ripropone da anni sui muri della città e in questo caso appunto in mostra abbiamo anche un'opera una sua opera che ha proprio uno specifico contenuto su un richiamo al passato con un cherubino che lancia una freccia su un drone di controllo quindi insomma quello che fa sempre la street art quindi attualizzare o molto spesso almeno attualizzare temi con un rimando comunque all'arte e anche alla sua storia una domanda quattro esperienze umane e professionali diverse che si sono coagulate in questa esperienza di galleria ci potete dire qualcosa di riferimento a questo? a com'è nata la necessità di proporre in una galleria a Livorno la street art e il pop? l'idea del coagulo è proprio ci si addice a volte questa cosa del sangue denso che poi si raggruma e si concretizza un'unione di cellule poi la cellula è un uovo quindi siamo state noi a metà tra un cancro contaminatore e qualcosa non lo so così però propositivo sicuramente invadente la street art poi lascerò la parola ai miei colleghi noi ci occupiamo di street art da 15 anni quasi siamo partite da cose molto illegali fino a arrivare nel 2015 con un grande festival a Caccia il primo festival di street art della Toscana visto 50 artisti tutti in una volta sola a lavorare insieme per le strade di quel posto e quindi poi Livorno è il posto dove viviamo è stata una conseguenza naturale quella di portare qui quella che è stata la nostra esperienza di vita artistica conseguenza naturale anche di una grande e forte amicizia che si rinnova ogni giorno e che fa scoprire i lati di noi e che ci fa essere una squadra composita con abilità diverse e che quindi non si scontra mai ma si incontra sempre crescendo di fronte alle grandi polemiche dei nostri muri ci esponiamo proprio per farci vedere perché siamo delle artiste esibizioniste tutto ha iniziato lei con il grande pesce di 27 metri poi siamo arrivati col grande murale del re della ruina da Madrid che è arrivato a Livorno a invaderci di colore e ci esponiamo e siamo vittime sia di tanti e troppi applausi che di critiche ma l'amicizia ci unisce e anche la voglia di andare avanti perché noi creiamo mondi e guadagniamo della nostra fantasia e quindi troviamo sempre uno spazio per curarci La caratteristica della street art o dell'arte urbana che poi c'è differenza vabbè se no ora non siamo qui a tenere una lezione di storia dell'arte però tra arte urbana e street art ce ne corre la street art è illegale e ha bisogno dell'illegalità vive di notte e viene fatta proprio rischio e pericolo l'arte urbana è l'evoluzione borghese della street art ovvero si mette un paio di pantaloni eleganti e va con tutte le autorizzazioni a dipingere su grandi muri ci servono permessi, i sovrintendenti, i segretari e i sovrintendenti e tutto quello che ne consegue poi la street art sia un linguaggio giovane anche se devo dire che secondo me tutta l'arte è giovane nel senso non c'è un'arte giovane o un'arte non giovane l'arte o è giovane o non è arte già nel senso o tutto il quadro è contemporaneo immagino perché ha una nuova vita tutte le volte che lo rivedi quindi non muore mai grazie a tutti